Questo certifica che l'uomo politico che si sporca le mani comunque c'ha un appeal. E chi è stato il primo? Chi è stato il primo? Lo faccio vedere io, perché a questo punto bisogna riconoscere. Eh vabbè, far condiccio. Lui da sempre sulla ruspa. E secondo me questo è il ministero suo, non quello dell'interno, perché... Mi c'ho affezionato ai mezzi scavatori, così capito? C'è quello là, scusa, torna un attimo indietro. Lui questo qua col capello lungo che si vede proprio che dice dai su scendi dai su, dai. E lui fa no, ancora un giro, dai scendi dai. Scusa, però mi sembrava proprio la postura, vedi qua. Vai avanti, perdonami. Non mi hanno fatto far spenta, comunque vabbè. E qui, vabbè. Qua sta con Occhiuto e Schifani, Calabria e Sicilia. Perché finalmente, diciamo, il ponte è arrivato lì, eh. Cioè, se fa. Ponte. Lo fa Salvini. Ponte, il ponte sullo stretto di Messina. Questa è una... Ponte sullo stretto Alvia, tre chilometri di lunghezza, sostenuto da cavi. E mettono già il progetto, che andrebbe consegnato entro il 2024. Loro presenteranno sto tweet, non lo so. Si portano avanti. Chiaramente tu metti una cosa così, su internet, immediatamente i commenti. Quello che non capisce una pagella di quinta elementare costruirà il ponte di Messina. Vabbè, sono competenze diverse. Vabbè. E poi c'è proprio il tecnico. Ovviamente ha scelto quello a campata unica, perché ha studiato a Oresund a spese nostre. 1,1 chilometri 52 campate, il suo Messina 3,3 chilometri una campata. Allora, tutta qua la serie dei dati. Noi abbiamo un pochettino per i figli. Sono un po' cazzate, buttate lì, non lo so. Però Oresund, vero. Io me lo ricordavo, lui era ad Oresund esattamente il 28 febbraio, piena Cutro, diciamo. Due giorni dopo il naufragio di Cutro. Questo pomeriggio, sul ponte di Oresund, infrastruttura che unisce Svezia e Danimarca, ha progettato e costruito nel giro di una decina d'anni e ora permette a svedesi e danesi di viaggiare meglio e spendere meno, inquinare di meno. Ed è un film, ti prego Diego. Vediamo questo video, qualora non l'aveste già visto. C'è un pan proprio, guarda che bello questo. Ecco qua, questo è il ponte e questo è lui. Siamo su un ponte che unisce Svezia e Danimarca, trattato nel 91, lavori cominciati nel 95, lavori finiti nel 2000, se l'hanno fatto qua per 16 chilometri, perché non da noi? Se ne parla da decenni, si sono spesi già tanti soldi senza far nulla, ecco, unire Sicilia, Calabria, Italia d'Europa, Palermo e Berlino. Conto che la missione di oggi, che unisce, perché i fonti uniscono nel nome del lavoro, della sostenibilità, dello sviluppo e della velocità e sicurezza, quello che unisce oggi Svezia e Danimarca, potrà e dovrà unire domani Sicilia, Calabria, Italia ed Europa. È un impegno, ci metteremo, loro ci hanno messo cinque anni, magari noi ce ne mettiamo sei o sette, però si parte, promesso. Mi piace intanto il basso profilo, c'è una consapevolezza del fatto che noi ci metteremo di più, per la prima cosa. La seconda cosa che abbiamo dato tutti è che, lo diciamo sommessamente, come dice la Premier, Italia e Europa sono già collegate. No, perché lui ha questa cosa che l'Italia è staccata dall'Europa, ci serve comunque un ponte per arrivare alla Svizzera, alla Germania. No, cioè, io lo dico perché... Lui pensa, il ponte fa da gricche, che ci spigna... Sì, esatto. Ci accosta, e tu ti attacchi. Oh, non lo so. Comunque, fino a Sicilia e Calabria ci siamo. Cosa colpisce a me? Come al solito, cosa che per prima hai fatto notare tu. Ah, sì. Il ponte unisce. Guarda, fino a unisce, perché poi diventa pure sostenibilità. Tutto. Super calibra agilistica e spirale. Il ponte dei Salvini, il ponte unisce, accampata unica. Può essere fatto solo così, sta grande opera. Diciamoci la verità. Ecco qua. Può essere l'unico modo fatto accampato. Queste sono le mega strutture che restano. Il ponte accampato diventa il ponte dei Salvini, che riscatta tutte le cazzate che ha fatto prima e un domani, pronipoti nostri, nostalgici, dei Salvini, la gente di Amagoma, tutte quelle cazzate che ha fatte, loro diranno no. Salvini ha fatto anche cose buone. E il ponte, come la bonifica. Un riscatto. Filippo. Ma da quando è che se deve fare sto ponte? Da un po' di tempo, dai tempi degli antichi romani. Ma in realtà poi, Maccox l'ha già battezzato Ponte Salvini. Perché nei decenni e nei secoli, come lo chiamavano, è questa la cosa. Poi, in tempi diciamo più moderni, Ponte Craxi. Perché Craxi aveva stabilito addirittura di fare una città che si chiamava Mediterranea, che avrebbe collegato Reggio Calabria e Messina. Poi è arrivato Berlusconi. Quindi Ponte Berlusconi lì era inevitabile. Salvini era, naturalmente, quando lo voleva pure Renzi, come prova d'amore perché glielo chiedeva Alfano. Salvini era contrario, naturalmente. Questo è ovvio. Salvo che nel 2021, siccome Draghi mostrò un qualche interesse, disse Salvini, chiamiamolo Ponte Mario Draghi. Questo è il monumento e il simbolo della megalomania e della inconcludenza, sostanzialmente. Per chi accende la fantasia di tutti i politici che vogliono accreditarselo. E ho visto però che stavolta hanno fatto il plastico. A parte che vorrei sapere quanto è costato questo plastico, perché non è che lo fanno gratis. Non il Ponte, il Plastico. Il Plastico. Facciamo dei costi del Plastico. Il Plastico, rispetto al rendering che si fece. Perché Berlusconi nel 2000, quindi ormai quasi una generazione fa, mostrò a porta a porta come doveva essere questo Ponte. In realtà qui già col Plastico è un'assunzione di responsabilità. In realtà bisogna essere, ma non dico scettici, ma increduli di fronte a sta storia. Così come è incredula la società italiana. Io ho trovato oggi 12 canzoni, 12 canzoni che ridono sul fatto che i politici vogliono fare il Ponte. La prima era addirittura del 1955, cioè prima che nascessi io, in cui dicevano, eh, faranno il Ponte, faranno il Ponte, eccetera. Quindi è proprio uno scetticismo diffuso. E poi finisce nei film, perché ci sta Checco Zalone che ne parla. E naturalmente c'è Tola qualunque. Quindi è una di quelle cose di cui si parla sempre e non si fanno mai. Naturalmente oggi, giornata storica, eccetera, pare che già naturalmente nel progetto sia troppo basso. Per cui non consente a certe navi di passarci sotto. Il che crea qualche problema perché dovrebbero navigare dalla Sicilia. Ecco, quindi è questa, diciamo, la premessa. Pensa se invece un ponte diventa una diga. E certo. Il puro. La diga, Salvini, sarebbe bello di fare... Sai quei furgoni che rimangono nei sottopassi? Certo. E quelli che rimangono così. Vabbè, possiamo dire... Comunque, che Salvini ha scelto il ministero giusto. All'inizio lui voleva quello dell'interno. E sarebbe stata una scelta devastante. Perché ormai ne capitano di tutto a piante dosi. Nicola Porro. Nicola Porro, sapete tutti chi è, no? Quello che invita nelle feste. Ok, quello che non sta a buono con te. Allora, assalto alla polizia a Napoli. Scontri tra Ultras, città nel caos. I video shock. Eintracht, Francoforte, Napoli. I video shock, perché chiaramente i video shock ce l'ha tutti. Nicola Porro. Cose brutte, per cui subito piante dosi, no? Salvini, queste cose che se le perde? Questi non sono diffusi, sono criminali. Chissà se in Germania farebbero lo stesso casino. Massima solidarietà e sostegno alle forze dell'ordine. Vabbè, comunque, Salvini, il responsabile più vicino lo trova in Germania, questa cosa. E tutti nei commenti gli ricordano... La Morgese dimettiti, la Morgese dimettiti, la Morgese dimettiti, la Morgese dimettiti, la Morgese. Fatti nominare di nuovo di ministro e poi dimettiti. Allora, può sembrare pretestuoso, ma per chi non segue l'accanto dei Salvini o del suo partito, cioè se poi rende conto che davano addosso con delle card alla Morgese per qualunque cosa, anche per questioni di elettrauto. Io qua ce n'ho una. Allora, ministro della Morgese pensa di fare qualcosa per aiutare questi poliziotti? Torino, la polizia stradale resta a piedi, batterie difettose nelle nuove auto costrette a girare con i cavi e qua la responsabilità era da la Morgese. La Morgese, che doveva andare là, con la batteria, Fiam... Ora, ricordavamo prima, mentre preparavamo queste cose, chiedo anche il vostro aiuto, Paolo, cioè solo in queste due settimane leviamo cutro, ok? Non parliamo di cutro. Perché? Ma parliamo di cose così, accadute che abbiamo letto per mezza giornata, autostrada, tifosi della Roma e tifosi del Napoli che si sono andati incrociati in trasferta e si sono pistati come l'uva in piena autostrada bloccando il traffico. Antedosi mai nominati. Anarchici a Torino, che hanno sfondato Torino, niente. Accoltellamenti alla stazione di Milano, che è quello poi in cavallo di battaglia loro, immigrato, clandestino, risorsata a Boldrini, uno è andato in giro, non ha accoltellati sei a sto giro, però diciamo... No, la colpa era tesala, credo. Era tesala, dipende, no? L'hai del sindaco. Solo questa cosa qua, mi sto scordando sicuramente qualcosa, cioè come funziona? Quando è che è responsabilità del ministro? Quando è che si può dire, ministro, forse dovrebbe fare qualcosa per l'ordine di questo paese? È chiaro che l'ordine pubblico dipende dal ministro, cioè se vuoi sapere rispetto a Sala, Sala, al sindaco, l'abbiamo capito bene. Io sono follow questi sardini. Dopodiché questa vicenda è stato consentito il viaggio, tra l'altro sono arrivati, partendo da Salerno, girando una serie di blocchi. Detto questo, lo sapevano, cioè lo stesso Piantedosi era tra quelli che ha detto non li facciamo venire. E quindi dov'è il problema? Che poi quando si sono resi conto che quello è, hanno messo delle forze a controllare che erano assolutamente insufficienti. In altri tempi avrebbe già chiesto di dimissione al ministro dell'Interno, però forse non è vero. Su questione di decalcio... E che poi se si va invece... Allora, con Salvini c'è la certezza che per ogni tema c'è l'esatto contrario sostenuto da Salvini. Che io non so come faccia una fa il lavoro di Salvini, sapendo di aver seminato tutte queste stronzate in giro per la rete, da negare, cioè è una cosa incredibile. Però lui lo fa e devo dire, ci vuole coraggio. Tifosi che fanno caciara? Ce l'abbiamo. Tifosi turchi con petardi e bombe carta in giro per Roma. Alfano, prefetto e capo della zia d'Ormo, dimettetevi, incapaci. Quindi c'è un precedente. Tifosi olandesi devastano Roma. Il prefetto di Roma dovrebbe dimettersi. Il suo capo Alfano dovrebbe dimettersi e chiedere scusa, Salvini. Quindi... Con due partite diverse. Due partite diverse, assolutamente sì. Due anni diversi. Due anni diversi. Talmente la coda di paglia che si cerca di giustificare. Così. Questo è eccezionale. Karaoke, Salvini, Meloni, il commento di Sallusti. Non capisco dov'è il crimine. I soldati ucraini la sera cantano nelle trinceci, il contaglio dei cadaveri. A stessa situazione. Para, para, para. Uguale. Fanno il caroglio. Uguale. E si continua, come ho scritto qui, a giocare per il pareggio. Cioè per cercare comunque di... Anche voi siete così. Ipocrisia sinistra. Loro possono festeggiare ed esultare Salvini e Meloni. Non possono cantare a una festa di compleanno. Deviando il punto, no? Che non è il fatto che hanno cantato a una festa di compleanno. E che lo fanno in seguito a quell'altra. Dopodiché... Ma non basta! La Finlandia si sveglia la mattina col top trend, Twitter top trend Finlandia. Dove ci sta Sara Marin, cutro karaoke. Perché? Lega Salvini. L'ipocrisia della sinistra sotto gli occhi di tutti, pronti a tutto pur di attaccare la Lega e il governo. Ma non si vergognano. Sanna Marin e la sua gioia di vivere una lezione politica. Questo va bene e questo non va bene. Di qua, secolo d'Italia. Meloni contestata per il karaoke ma la sinistra dimentica quando difendeva Sanna Marin in discoteca. Buono, eh? Hanno dovuto cercare per tutto il globo terracuo finché non trovavano la foto. Ecco qui, Diego, la cosa che hai notato tu. Poi, qua c'è Frenchiai Energy che inevitabilmente mette una delle bare bianche di Crotone, del Palaminone di Crotone. Questa è Marinella e la storia vera che scivolò nel film a primavera. Diciamo appunto che anche la canzone è diventata oggetto di discussione. Qualcuno per far capire il contesto. Provate a immaginare se avessero beccato Andreotti cantare Hotel Supramonte durante i giorni del sequestro Moro. No? Cioè una canzone di De Andrè, anche questa, dedicata ai sequestri. Maurizio Belpietro. Maurizio Belpietro, cantare la canzone di Marinella è un'offesa alle vittime del naufragio di Cutro, per una sinistra sconfitta, in cerca di una rivincita e soprattutto di argomenti per ottenerla. Marinella è una migrante annegata, mentre era in cerca di un futuro migliore. Allora, la difesa di Maurizio Belpietro diventa quella tecnica, quella autottica. Cioè, entra su come è morta Marinella. Perché dice, non è affogata, attenzione, e lui da coroner ti porta proprio il reperto. Eccolo qua, la ballata di De Andrè, dedicata a una giovane che scivolò nel film a primavera, racconta la storia di una ragazza assassinata e gettata nel tanaro nel Bormida. Bormida? 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 Vabbè. Comunque, la difesa del Belpietro è 19, era già morta prima, era ammazzata prima, quindi non è affoga. S'era arrivata a questo livello di follia. Ed ecco Nicola. Ma arriva lui, diciamo, a chiarire tutto. Molti di voi mi hanno chiesto, perché hai pubblicato il video di Meloni e Salvini che cantano? Ora ve lo spiego. A parte che questi molti di voi, noi subito abbiamo detto, almeno due nomi ce li abbiamo. Due nomi li sappiamo sicuro. Almeno due. Perché lui con quel video ha creato un macello mai visto, cioè un danno enorme. E mi è piaciuto questo. T'hanno cazziato, eh? T'hanno cazziato. Ecco qui, e alla fine secondo me definitivo Enrico Romano. Faccia un bel respiro e dica a voce alta. Mi chiamo Porro Nicola e ho fatto una cazzata. E la chiudiamo così. Un ministro della difesa. In farmacia entra un'anziana. Cerco mio figlio. È la quinta volta che viene. Qui non lavora suo figlio. Da due ore pagava, senza idea di dove si trovava. L'accompagno lì vicino alla polizia. Spiego. Lei chi è? Mi dà un documento? Sono il ministro della difesa. Ah, un collega. Questa sarebbe stata la conversazione intrattenuta da Crosetto al commissariato di polizia. Ok, ministro della difesa. Mi dà un documento, ministro della difesa. Sono tutti buoni tutti qua del ministro della difesa. Quale ministro della difesa? Era piantetosi? Qualcuno chiede? Ci leggo una punta di snobbismo. Lei è prima di tutto il signor Guido Crosetto. Ognuno ci legge ciò che è. Era un aneddoto divertente, spiega Crosetto. Ognuno fa aneddoti divertenti in base a ciò che è. Questa conversazione va avanti. Ti ha chiesto di presentare un documento? Ma che me ne frega di sapere che lavoro fai nella vita? Ma chi cazzo sei, Beyoncé? Sì, sei comunque Crosetto. Inizia la ricerca degli scafisti in tutto il globo terracqueo. Scafisti su Marte, questo è Cine Globo. Il giro del globo terracqueo in 80 giorni. Gli acchiappa scafisti sono arrivati per salvare il mondo. Terracquaman. Il favoloso globo terracqueo di Giorgia. Gli scafisti si sentono così braccati in tutto il globo terracqueo dal governo Meloni che nelle ultime 48 ore ci sono stati 4600 sbarchi. E poi c'è lei, eletta Miss Fratelli d'Italia, vorrei la pace nel globo terracqueo. Che è una delle prossime dichiarazioni che si faranno. Andiamo avanti, torniamo a Matteo Salvini che, come avete capito, ha fatto 50 anni. Vi voglio bene insieme, faremo cose grandi alla maglietta celebrativa qua, eccetera, eccetera. Qualcuno ricorda che non sono 59, ma sono 49 più 1, a dirla proprio in maniera precisa. Questo è il compleanno speciale di cui tanto si è parlato. Buonasera da noi, amici, grazie di cuore per esserci sempre. Immagino, appena lasciato a Cudro il pensiero è stato, e mo se magna, plausibile. guest star, ma ho se tung. E qua c'è la buona domenica da noi, Salvini con la compagna. Il vice premier alla ricerca degli scafisti lungo il tutto il globo terracqueo, ispeziona anche i lachi, perché non si sa mai dello scafista. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo. Speria, se stai spettando a Cudro il uno degli ultime di nuovamente, e ciò che è il nostro nostro dietro. Speria, se stai spettando a Cudro ilシbio, E qua c'è un giorno, e la ricerca degli scafisti lungo il mondo. Il c'è un giorno,